Siracusa, Alvia e i lavori sul ponte Umbertino e alle ringhiere del lungomare di Levante Alvia e i lavori di ricostruzione del ponte Umbertino nella parte danneggiata lo scorso settembre durante un intervento di messa in sicurezza e quelli per il recupero di oltre 40 pilastrini della ringhiera del lungomare di Levante di Ortigia dal Castello Maniaci fino al Forte San Giovannello. L'intervento sulle ringhiere è iniziato stamattina, lunedì partirà l'altro, la durata prevista è di circa 4 mesi, la spesa complessiva supera i 144.000 euro ed è il frutto di due diversi affidamenti, uno per i lavori sulle parti in ferro da 74.420 euro e uno per le opere murarie da 70.040 euro. Per quel che riguarda il ponte Umbertino il ripistano avverrà riutilizzando per quanto possibile le parti crollate come nel caso delle decorazioni del torrione e la sostituzione di quelle irrimediabilmente danneggiate impiegando materiali dello stesso tipo. L'intervento sulla balaustra si svilupperà per una lunghezza di 4 metri mentre quello sul torrione prevede anche la ricollocazione del lampione rimosso completo di cablaggio.